E quindi è molto comodo sbattere di fuori, è molto comodo. Io sono d'accordo, però vede, io cerco disperatamente, non essendo cattolico, di essere cristiano. E dico, ma siamo sicuri che poi alla fin 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 ce la faremo? No, io penso di no. A questo punto bisognerebbe anche liberarsi di tutto quello che può dare fastidio. Guardi, gli anziani si potrebbero eliminare facilmente, non so come. I mutilati, i ciechi, gli storpi, i malati di mente, tutto quello in più che dà fastidio alla nostra cultura, il timore che abbiamo noi fanziozzi e che voi leghisti non siate in grado, ma avete la personalità che avevano una volta i nazisti. Quindi sarebbe il caso di appaltare l'eliminazione di tutti gli extracomunitari, compresi i camorristi però, tutti quelli che delinquono, a un'associazione tedesca. Allora io vi do delle indicazioni precise. Ci sono dei pronipoti di quelli di Auschwitz, Belzen, quelli sì che erano bravi e si erano liberati del problema.